Avvicinare le nuove generazioni al concetto di beni comuni e poi predisporre un regolamento per il governo e la gestione dei beni della città di Nociari Inferiore. Con questi obiettivi l'amministrazione del sindaco Maglio Torquato ha adottato un atto di indirizzo ad hoc, prendendo spunto dagli esempi dei comuni di Napoli, Torino e Bologna. Ben 113 città ormai hanno questo regolamento, diciamo che parte dall'introduzione del principio di sussidiarietà, ovvero portare i cittadini ad amministrare, infatti parliamo di un'amministrazione condivisa, sensibilizzare i cittadini per la propria città, per manutenerla, non per rovinarla così come sta accadendo negli ultimi anni. La delibera di indirizzo parte prima di tutto dalla sensibilizzazione dei ragazzi, partiamo dalle scuole con bandi all'interno delle scuole appunto per sensibilizzarli, poi l'elenco del patrimonio del comune che già è partito e che sarà integrato, che poi sarà inserito all'interno di un portale sul sito del comune di Nociari Inferiore, dove poi tutti i cittadini possono andare a cercare quale bene potrebbe interessargli. Tutti i cittadini possono partecipare, non solo le associazioni ma anche i singoli cittadini, anche i cittadini che si uniscono momentaneamente. Intanto state lavorando anche ad un concorso che prevede cosa? Sì, oggi in giunta ci sarà un concorso, si chiama Verde Città, si tratta della riqualificazione di sei zone di Nocera che poi saranno affidate ai cittadini in modo che possano curarli e gestirli, manutenerli e non rovinarli. Grazie